Nel 97, anno del debutto, a Sondrio furono 200 i partecipanti ai Carici di Stelle. La manifestazione estiva ora oscilla fra i 1300-1500 pass degustazione venduti. E c'è già fermento in città per la 21esima edizione, in programma il 10 agosto nel cuore di Sondrio. Protagonisti i migliori vini di Valtellina che si potranno assaporare dalle 20.30 a mezzanotte. Al centro le volte appuntamento con gli sforzati apice della produzione vinicola valtrinese. Il 10 agosto è veramente un appuntamento che non si deve perdere in città, ma è un evento che sicuramente ormai tutti conoscono. Ha mostrato i suoi primi passi 21 anni fa e da allora di strada ne ha fatta. Ma il primo passo era il passo giusto, nella direzione giusta. E ora Sondrio è a tutti gli effetti città del vino. Ogni carne di degustazione è composto da sei buoni, due per gli sforzati e due a testa per i vini di OCG e DOC. Il municipio è in prevendita a 13,50 euro. Il 10 agosto si potranno acquistare anche in piazza Garibaldi a 15 euro. In questi 21 anni il vino di Valtellina ne ha fatti di passi in avanti. Sì, direi che siamo giunti ormai alla 21esima edizione dal 1997 di questa manifestazione dedicata ai vini di Valtellina. Il nostro nebbiolo ha fatto passi avanti concreti, sia sul territorio che fuori. Una manifestazione come quella di Calici di Stelle ha aiutato sicuramente lo sviluppo e la promozione dei nostri vini. Quest'anno 23 aziende, 80 vini in degustazione, tra cui una ventina di sforzati presso il centro delle volte. Speriamo, diciamo, in un successo di pubblico come nelle ultime edizioni. A Castel Masegra visite guidate da non perdere le osservazioni al telescopio della Luna, a cura dell'Associazione Astrofili Valtrinesi. In piazza Garibaldi ci sarà un concerto blues di Francesco Piu e la sua band. Un giovane bluesman che ha avuto molto successo sia nel panorama del blues nazionale che internazionale. Sarà l'occasione per conoscere Sondrio, ma anche il suo circondario, i vigneti, i terrazzamenti. Certo, perché Sondrio quella sera avrà le visite guidate sia sul Castello Masegra, sia anche una visita notturna dall'alto sulla città, ma anche sui terrazzamenti. E anche l'occasione per magari passare un fine settimana in questa bellissima terra che appunto ci regala dei vini preziosi, pregiati e ormai rinomati in tutto il mondo.